I furti si susseguono. Ancora una volta a Fargola sono i grossi quantitativi di rame stoccati nei depositi delle aziende. Indagano i carabinieri sull'ultimo messo a segno in ordine di tempo la scorsa notte a San Giorgio delle Pertiche. Nel mirino dei ladri una ditta specializzata nella produzione di scaffalature metalliche. Davvero una brutta sorpresa alla riapertura dei cancelli delle aziende in mattinata. Mancavano infatti all'appello 830 metri, quasi un chilometro di cavi di rame, un danno ingente ancora in via di quantificazione.